Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Destiny's, gioco della Lucky Duck Games, che se vi ricordate sono gli stessi di Chronicles of Crime, che vi abbiamo già portato in tutte le salse, in varianti anni 80, tempi nostri, medioevo, gioco che mia moglie è investigativo guidato da App, adoriamo veramente da morire, e vi presento Destiny's, primo gioco, penso, di una serie che porteranno avanti, infatti questo è il gioco, viene sempre presentato come il gioco base, che è un gioco investigativo e d'ambientazione, diciamo, low fantasy, un gioco d'avventura comunque medievale, low fantasy, che ricorda molto da vicino giochi guidati da App, tipo le case della follia, ma ricorda anche molto Tainted Grail. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Destiny's, in questa edizione italiana a cura di Asmode Italia, che io ringrazio di cuore per averci offerto questa coppa per la recensione, è sempre un piacere immenso collaborare con voi, è il classico gioco della Lucky Duck. Quindi se avete visto Chronicles of Crime, sapete che in tutti i loro giochi, per forza non è una cosa opzionale, c'è da scaricare un'app che serve unicamente per scannerizzare, la loro app praticamente è uno scanner di QR code, che troverete su tutte le carte di gioco, le vostre carte di destino, e dovrete andarle a scannerizzare per capire cosa c'è in quella location, oppure perché, ne so, se avete un oggetto particolare e questo oggetto lo volete presentare al negoziante, o magari sapendo qualcosa di più dello candiere, che tanto sa sempre tutto di tutti, dovete, quando l'app vi darà l'opportunità e l'opzione, scannerizzare il QR code dell'oggetto per avere più informazioni sull'oggetto, quindi per fare delle domande relative a quell'oggetto che andate a scannerizzare. È un gioco dove ognuno gioca per sé, non è un gioco cooperativo, nemmeno competitivo, però diciamo è un gioco dove ognuno gioca per sé perché dovete compiere il vostro destino ed è arrivato l'angelo della morte sulla Terra, l'angelo della distruzione, che sta iniziando a distruggere il mondo, e sempre più catastrofi si stanno risvegliando e voi dovete compiere il vostro destino che vi porterà anche a salvare il destino di tutti. Alla fin fine siete il classico eroe. Vediamo personaggi come il soldato, c'è magari la suora, c'è il boscaiolo, ve l'ho detto, è un fantasy come tema, però è un low fantasy, non è niente tipo di epica, la Conan il Barbaro, o nemmeno la Tainted Grail. È un gioco dai 14 anni in su, da 1 a 3 giocatori, durata media un paio d'orette, ed è organizzato in varie missioni che compongono una campagna. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, bella, grande, guardate, rispetto alla mano, anche bello il disegno, e anche il tipo, vedete, l'angelo e tutto, che ricorda un po', i dolmen, se vogliamo, e tutti quanti gli avventurieri, il tipo di colorazione, ve l'ho detto, appena l'ho visto, a me sembravano espansioni di Tainted Grail, ed è bello, mi piace come tipo di colorazione, fonte e tutto quanto. Gioco della Lucky Duck. Apriamo. All'interno troviamo il regolamento, a striscetta larga, che ci spiega per filo e per segno, tutto quanto, tra l'altro spiegato veramente molto bene, di facile lettura, e poi le regole sono pochissime. È il classico gioco, completamente guidato dall'app, quindi, un po' come nelle case della follia, c'è anche bisogno di leggere poco, tanto è l'app che ti dirà cosa fare. E qua dentro, qua sotto, abbiamo un'infinità di miniature, che sono comunque piccoline, perché comunque il taglio delle miniature è questo qua giù. Quindi sono 31 miniature, però molto piccole, per un gioco ve l'ho detto, anche che sta in una confezione abbastanza ridotta, e poi ci sono miniature anche leggermente più grandi, però comunque anche se sono così in scala ridotta, secondo me è veramente una figata, che ce ne abbiano messi così tante, ma guardate questo, ora se ne lo rompo è meglio, guardate questo qua, che è il boss finale che dovete sconfiggere, un po' l'angelo della distruzione e della morte, questo in scala veramente grosso, guardate che figata, è bellissimo, questo penso da dipingere sia un pezzo da 90, più abbiamo altri boss, gli avventurieri, tutto quanto, le plance degli eroi, dei nostri personaggi, dove dovrete mettere la scheda del personaggio, e tutti quanti, i piruletti, per le varie caratteristiche, come vi dirà l'app di mettere, poi abbiamo un po' di token, non ce ne sono un'infinità, e non ce n'è un milione, io odio i coriandoli, quindi non ce ne sono nemmeno tanti, sono le monete, zone di interesse, che troverete sulla mappa, e poi abbiamo tutti quanti, questi piccoli meeple di legno, che sono i segni caratteristiche, da incastrare qui nella scheda, come vi ho fatto vedere, che tanto vi dice l'app come metterli, e poi abbiamo i tile di gioco, numerati sempre, quindi se l'app vi dice, mettete il numero 1, il numero 2, il numero 3, voi ce l'avete qui, e tutti i mazzi di gioco, che sono i mazzi degli NPC, sono i mazzi dei personaggi, sono i mazzi degli oggetti, sono i mazzi delle carte di destino, insomma il contenuto della scatola, per essere un giochino così, direi che è anche abbastanza bello corposo, le meccaniche come ho detto, sono tipo quelle di Chronicles of Crime, perché in questo gioco, siamo guidati da un'applicazione, e non è assolutamente opzionale, è un'applicazione, che vi guiderà per tutto il corso dell'avventura, e questo, forse anche più delle case della follia, o di Descent, è un gioco, che proprio si fonde completamente, non è una cosa parallela 50 e 50, questo è fuso completamente, con la sua app, e quindi sembra quasi, una specie di dungeon crawler, sembra a volte di giocare anche un po' un diablo, o un gioco del genere, abbiamo le schede dei personaggi, dove all'inizio l'app vi dirà, magari il soldato è più forte a combattere, magari la sua ore è più forte nell'intelligenza, quindi quando l'app ci chiederà, ad andare a fare una prova, noi prenderemo i nostri due dadi, che ne abbiamo sempre due, e poi abbiamo tre dadi speciali, li andremo a tirare, guarderemo il risultato, andremo a vedere, quante caselle abbiamo superato, dove ci abbiamo messo un puntino, nell'abilità, nella skill, e se abbiamo fatto due, tre, quattro successi, li mettiamo nell'app, uguale alle case della follia, e l'app ci dirà, se abbiamo superato la prova o no, e in che percentuale, magari l'è superata bene, oppure l'è superata, però c'è qualcosa di controindicato, magari un piccolo errore l'è commesso, stessa cosa, ci vengono incontro, a quei tre dadi speciali, che abbiamo, che li possiamo tirare, e vanno a dare forza al tiro, però ogni volta che ne consumate uno, lo dovete togliere, e ne recuperate uno ogni turno, ci si può muovere sulla mappa di gioco, ogni volta che ci si muove, soltanto in direzione ortogonale, ma in diagonale, si scopre una nuova zona, quando si scopre una nuova zona, si gira e si va a scannerizzare, per vedere cosa ci dice l'app di quella zona lì, insomma il gioco è tutto collegato, ci sono anche combattimenti, però soprattutto questo non è un gioco, picchia picchia, va avanti, ammazza il mostro, arraffa il tesoro e scappa, questo è un gioco dove voi dovete comprare il vostro destino, quindi comunque ci saranno anche indovinelli, tranelli, tanti discorsi da fare, perché fondamentalmente è un open world, quindi potete entrare nella locanda, e avrete una serie di domande da fare al locandiere, più variazioni, quindi magari ci avete sei opzioni, le potete scegliere anche tutte e sei, almeno che una non precluda l'altra, però nella maggior parte dei casi, dopo averne scelto uno o due, poi l'app a un certo punto ti blocca, e manda avanti la storia, dovrete fare tirabilità, e avrete oggetti, che potete prendere nel corso dell'avventura, a comprarli, venderli o dropparli, prenderli magari da un'avventura o da un mostro, con anche queste secondarie, e quando avrete questo oggetto, tutti gli oggetti avranno un QR code, perché vorrà dire che quando arriverete dalla giusta persona, magari fra le opzioni ci sarà, chiedeli di questo oggetto, e voi potrete presentare la vostra spada, ad esempio all'emporio, o al fabbro della città dove siete, per avere qualche informazione, voi dovete compiere il vostro destino, portarlo a compimento, per salvarvi, per magari provare a salvare anche la terra, e soprattutto, il primo giocatore che arriva a compiere il proprio destino, ha vinto la partita, e la partita è finita, non è un cooperativo, non è un competitivo, ognuno gioca per sé, e come meccaniche ricorda un po' Western Legends, se vi ricordate, anche Western Legends non è un competitivo, ognuno fa la sua strada, chi arriva a fare più punti ha vinto, e così anche i Destinies. In conclusione, questo Destinies, della Lucky Duck Games, e soprattutto in edizione italiana, cura di Asmod Italia, è un titolo veramente, veramente interessante e divertente, e poi non ve lo nascondo, io i giochi che vi porto sul canale, come ho detto sempre, sono giochi che io vado a chiedere, quindi vi porto soltanto quelli che davvero mi piacciono di più. Ora, i gusti sono gusti, c'è chi l'altra volta mi ha lasciato un commento, a me piacciono i giochi, vecchio stile HeroQuest, senza l'app, e con magari un giocatore deve fare il Dungeon Master, e muovere i mostri, o magari c'è quello che gli piace, il gioco automatizzato senza Dungeon Master. Questo è un gioco che non ha bisogno di Dungeon Master, ma è collegatissimo, anzi, è più app che non un gioco da tavolo, e a me piace, perché mi piace l'idea di un gioco, perché adoro i videogames, di un gioco che si va a fondere, appunto, con un'applicazione o con una controparte videoludica. Quindi il titolo è molto interessante, secondo me è consigliata a tutti gli amanti del fantasy, se avete apprezzato, per quanto in un'altra scala, molto più piccolo e ridotto, ma avete apprezzato da morire Tainted Grail, apprezzerete anche questo, e a me i giochi del genere piacciono. Se invece non siete tanti avvezi, o non vi piacciono giochi con un'app, quindi guidati da un'app, dove è l'app che vi dice cosa succede, non che dovete leggere un testo sulla carta, o scannerizzare QR code o cose del genere, lasciatelo stare, perché non fa per voi. Sarebbe come comprare una seconda edizione di Descent, quando magari eravate più indicati per una prima, o per un altro gioco, magari Dungeon Saga. Quindi è un gioco, ve l'ho detto, completamente legato all'app. Lo potete trovare in tutti i migliori negozi, perché comunque tutti i negozi che vendono, giochi da tavolo, ci trovate anche e soprattutto il catalogo di Asmoditalia, che ancora una volta ringrazio per la copia fornita, e per me è un gioco alla portata di tutti, ci potete far giocare grandi e piccini, tanto è guidato da Napp, anzi magari il ragazzino si diverte anche, che lo vede un po' come un videogioco. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!